Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me, poi io offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi, nelle tue braccia per chiederti di quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affida, affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. La figlia di Sion tu sei, l'arca di una nuova alleanza. Nel tempio tuo figlio hai donato come offerta per noi. La stella del mare tu sei, che veglia sul nostro cammino e accoglie con cuore di madre il grido dei figli suoi. Rivolge a noi gli occhi i tuoi madri di misericordia. Per noi peccatori tu prega, dolce dono di Dio. La porta del cielo tu sei per ogni tuo figlio. Donato da Cristo nel giorno che al Padre tornò. Ti chiamerò sposa, tu pure sposa del Signore. Ave Maria, sei la regina della pace. Ti chiamerò madre, tu madre di misericordia. Ti chiamerò cielo, ti chiamerò cielo, il sole di giustizia in te. Ave Maria, umile serva dell'amore, madre di Dio. Madre di Dio Dal libro di Cielo, volume 19, 31 marzo 1926. Figlia mia, tu devi sapere che la mia mamma celeste potete concepire me verbo eterno nel suo seno purissimo perché fece la volontà di Dio come la faceva Dio. Tutte le altre prerogative che possedeva, cioè verginità, concepimento senza macchia originale, santità, mari di grazia che possedeva, non erano mezzi sufficienti per poter concepire un Dio perché tutte queste prerogative non le davano né l'immensità né l'oniveggenza per poter concepire un Dio immenso e che tutto vede e molto meno la fecondità per poterlo concepire. Insomma, sarebbe mancato il germe per la fecondità divina. Invece col possedere il supremo volere come vita propria e col fare la volontà di Dio come la faceva Dio ricevette il germe della fecondità divina e con esso l'immensità e l'oniveggenza. Perciò in modo con naturale potetti essere concepito in lei non mi mancava né l'immensità né tutto ciò che all'essere mio appartiene. Questo fare la volontà di Dio come la fa Dio fu il punto più alto, il più sostanzioso, più necessario per la mamma mia per ottenere il sospirato redentore. Tutte le altre prerogative furono la parte superficiale, la decenza, il decoro che a lei conveniva. Così è per te. Se vuoi ottenere il sospirato fiat, devi giungere a questo, di fare la volontà di Dio come la fa Dio. Vol. 19, 16 aprile 1926 Tale fu la vita della mamma mia, divina. Essa fu la vera immagine del vivere nel mio volere. Il suo vivere in esso fu tanto perfetto che non faceva altro che ricevere continuamente da Dio ciò che conveniva fare per vivere nel supremo volere. Diceveva l'atto dell'adorazione suprema per potersi mettere in cima ad ogni adorazione che tutte le creature erano obbligate a fare verso il loro creatore perché la vera adorazione ha vita nelle tre divine persone la nostra concordia perfetta, il nostro amore scambievole, la nostra unica volontà formano l'adorazione più profonda e perfetta nella Trinità Sacrosante. Quindi se la creatura mi adora e la sua volontà non stai in accordo con me è parola vana, non adorazione. Perciò la mia mamma tutto prendeva da noi per potersi diffondere in tutto e mettersi in cima ad ogni atto di creatura in cima ad ogni amore, ad ogni passo, ad ogni parola, ad ogni pensiero in cima ad ogni cosa creata. Lei metteva il suo atto primo su tutte le cose e ciò le diede il diritto di regina di tutti e di tutto e superò in santità e in amore e in grazia tutti i santi che sono stati e saranno e tutti gli angeli uniti insieme. Il creatore si riversò su di lei dandole tanto amore da avere, amore sufficiente per poterlo amare per tutti e le comunicò la somma concordia e la volontà unica delle tre divine persone in modo che potete adorare in modo divino per tutti e sopprire a tutti i doveri delle creature. Se ciò non fosse stato non sarebbe una verità che la mamma celeste superò tutti nella santità nell'amore ma un modo di dire ma quando noi parliamo sono fatti, non parole perciò tutto troviamo in lei avendo trovato tutto e tutti tutto le demmo costituendo la regina e madre dello stesso creatore Tu devi essere l'eco nostro, l'eco della mia mamma celeste perché fu solo lei che visse perfettamente e pienamente nel supremo volere perciò ti può essere guida e farti da maestra Ah, se tu sapessi con quanto amore ti sto dintorno con quanta gelosia ti vigilo affinché non sia interrotto il tuo vivere nel mio eterno volere Tu devi sapere che sto facendo più con te che con la mia stessa mamma celeste perché essa non aveva i tuoi bisogni né le tendenze né le passioni che potessero minimamente impedire il corso della mia volontà in lei con somma facilità il creatore si riversava in lei e lei in lui quindi la mia volontà era sempre trionfante in lei perciò non aveva bisogno né di spinte né di ammunizioni anche oggi questi scritti del libro di cielo ci portano molto in alto nel cielo a contemplare il fungore di quel cielo creato che fu la Divina Maria con un'espressione che oggi abbiamo sentito potrebbe anche dare il titolo a questa meditazione che è colei che fece la volontà di Dio come la fa Dio perché non basta fare la volontà di Dio occorre fare la volontà di Dio come la fa Dio ossia in maniera continua perfetta ininterrotta non limitata alle operazioni personali proprie come abbiamo visto nel secondo scritto dilatantesi nell'universo intero in chiave di vera e propria sostituzione vicaria e anche di primazia di primato reale su tutti questo è quello che ha fatto la Madonna l'ha fatto per sé e l'ha fatto per tutti allora Gesù comincia a spiegare che se non ci fosse stato questo cioè vivere in questo modo rende partecipe la creatura di cosa? dell'immensità dell'onniveggenza e soprattutto della fecondità divina sappiamo dalla dal catechismo anche se molti oggi purtroppo non saprebbero rispondere alla domanda che significa che Dio è immenso perché per qualche sciagurata serie concomitante di circostanze a mio avviso si è posto troppo frettolosamente in soffitta al catechismo di San Pio X con il rilievo certamente non privo di significato anzi per certi aspetti condivisibile che non possiamo ridurre il cristianesimo ad una serie di formule di formulette da imparare a memoria questo è evidentissimo questo qui ed è certo però è anche vero che le cosiddette formulette non si è imparata a memoria a pappagallo ma se spiegate e comprese danno tuttavia quel minimo come diceva San Tommaso di cognizione chiara e distinta per quel poco che possiamo averne perché la fede è per definizione a detta dei santi e a detta anche della stessa una conoscenza oscura per cui non è tutto chiaro anzi ecco si è immersi nel mondo del mistero il mistero vuol dire che tu capisci qualcosa ma molto poco rispetto al tutto questo è l'orizzonte della fede perché come dice San Paolo allora ciò che è creduto se si è visto non è più fede e non è più speranza quindi non è né oggetto come dire di adesione di fede appunto per l'intelletto e per la volontà e né tantomeno oggetto di speranza per il cuore per i desideri e per l'attenzione della volontà perché se lo vedi chiaramente cioè se noi avessimo adesso la visione beatifica non faremo a sperarla ecco non lo potremo sperare no? però dicevo quel poco che è possibile non sarebbe da disdegnare certamente terminato il catechismo la formazione essenziale dei fanciulli ai sacramenti non basterebbe una cosa di questo genere però purtroppo a volte si assiste e di questo insomma ne sono consapevoli anche le autorità della chiesa che i ragazzi arrivano a adesso queste sono considerazioni da parroco non tanto da meditazione ma che arrivano a ricevere i sacramenti di l'iniziazione cristiana sì certamente senza le nozioncine delle formulette ma questa vacanza questa latenza questa mancanza è spesso riempita con il nulla quindi meglio una cosa non ideale non perfettissima ma comunque utile piuttosto che nulla ecco detto questo che Dio è immenso significa semplicemente che Dio è presente con tutto se stesso in cielo e in terra e in ogni luogo pensiamo quanto è fondamentale questa nozione vogliamo chiamarla così per comprendere la vita nella divina volontà cosa significa fondersi con la divina volontà è quello che si dice e attraverso la divina volontà si raggiungono gli atti degli uomini di tutti i tempi di tutte le generazioni di ogni spazio e si vuole nell'universo intero perché? perché che Dio è presente in cielo interno in ogni luogo prosegue Santa Teresa Davide Antosia Giovanni della Croce significa che Egli è presente in tutte le cose per potenza presenza ed essenza significa che è essenzialmente presente dappertutto ed è presente con tutta la totalità della sua potenza in modo tale che il governo immediato di ogni minima cosa di ogni minimo pensiero è tanta roba lui come dire non esplica la sua potenza onnipotente solo quando non vuole o quando vuole perché così ha deciso nel creare rispettare le libertà delle cause secondi ma resta tutto soggetto a Dio e allora Gesù sta dicendo io come faccio ad andarmi ad incarnare in un essere dove non possa ritrovare la mia immensità non ci posso andare perché è una prorogatia del mio essere Dio come faccio l'onniveggenza per esempio cosa significa l'onniveggenza che Dio vede tutto sempre il catechismo di esempio anche i nostri pensieri è tutto nudo con il suo cospetto tutto tutto nudo stamattina c'era una bellissima lettura di Sant'Agostino tratta dal libro delle confessioni consigliatissimo molto adatto a mio avviso per chi desidera entrare nel regno della divina volontà perché è un libro dal dato come tutta la scuola agostiniana che poi si rifà in ultima istanza al platonismo che esalta la via dell'interiorità come via dell'incontro con Dio noi sappiamo che la vetrina volontà è tutta interiore Sant'Agostino dice una cosa molto bella quando noi ci nascondiamo e ci nascondiamo dagli occhi di Dio in realtà ci nascondiamo noi nascondiamo Dio a noi stessi e noi stessi a noi stessi perché dinanzi a Dio non è possibile nascondersi possiamo e se noi imparassimo a lasciarci guardare da Dio come Lui ci guarda ma si precisa prendere coscienza di questo e come dobbiamo fare a saperci mettere davanti a Lui nei nostri pensieri nelle nostre scelte nelle nostre cose quante cose cambierebbero quanti peccati in meno faremo quanto tempo in meno perderemo come sarebbe tutto più facile perché il Signore non desidera altro cioè perché la Madonna ha fatto la divina volontà come la fa Dio perché la voleva fare veramente non per scherzo non per scherzo l'ha deciso il giorno il momento stesso in cui è stata concepita ha detto io la mia volontà non la voglio neanche conosci ma io dico ti pare che di nazi ad una cosa di questo genere Dio che non desidera altro che la sua volontà sia fatta in terra come in cielo non glielo fa fare e quindi possiamo dirci al contrario perché io non dico non faccio la volontà come la fa Dio ma manco la faccio tanto bene perché non voglio perché in realtà non voglio sì posso illudere questo questo quest'altro no e ci sono sempre le famose spie le famose spie le mai sufficientemente poste domande che dobbiamo in continuazione porci cosa sto facendo cosa sto pensando perché lo sto pensando per chi lo sto pensando è un pensiero che Gesù farebbe è un pensiero che la Madonna farebbe è una parola che Gesù direbbe è una parola che la Madonna direbbe è un'azione che Gesù farebbe è un'azione che la Madonna farebbe come dice Gesù nella parte finale del secondo scritto per noi ci vogliono molti più aiuti che per la Madonna perché la Madonna era questa era una cosa come dire con naturale quindi perché con naturale è anche un pochino più facile perché lei era comunque l'immacolata concezione quindi non c'erano passioni pazite come in noi non c'erano tendenze disordinate come in noi non c'erano certi bisogni come in noi quindi e Gesù e Maria lo sanno che per noi non è così semplice d'accordo anzi tutt'altro ma non lasciano assolutamente di far pervenire a chi realmente lo vuole tutti gli aiuti possibili immaginabili anzi addirittura sono disposti a scomodarsi più con una creatura come dire ferita dalla colpa d'origine e con la madre stessa di Dio questa è una cosa bella sapersi nonostante la nostra indegnità proprio per quella misericordia di Dio quella vera misericordia di Dio quella bella misericordia di Dio che si china verso il bisogno della creatura e che il fatto che sia un po' più difficile non vuol dire che sia impossibile però qui senza la nostra volontà non si canta missa non si fa niente dobbiamo sempre imparare bene a fronte delle sciocchezze che qualche tempo fa le andava cianciando insomma qualche sedicente teologo insomma che ci capisce ben poco insomma dobbiamo ricordare che fermo restando l'attesa del giudizio definitivo della Chiesa gli scritti di Luisa sono stati dichiarati aventi nulla di contrario alla fede nel 1994 quindi meditare su queste cose non ci può portare fuori dell'ortodossia cattolica ora è bene precisare che nella divina volontà la volontà umana non è che scompare d'accordo o resta fusa cioè resta fusa in modo tale da non avere più una come dire individualità sua propria questo non è vero in Gesù Cristo perché Gesù Cristo aveva due volontà appunto una divina e una umana e il merito tutto quello che lui ha fatto l'ha fatto in quanto uomo e la meritorietà di tutto quello che ha fatto l'ha fatto proprio perché come uomo l'ha fatto in unione assoluta ininterrotta e perfetta con la divina volontà che era in lui il fatto che si parli di fusione che non rimane che non siano come si dice in alcuni stritti due volontà distinte opposte dipende dal fatto che nell'amore l'anima aderisce completamente a quello che Dio vuole senza nessuna difficoltà perché ha fatto questa opzione fondamentale ha fatto questa scelta meditata convinta che se io mi muovo anche di un millimetro da quello che Dio vuole vado alla rovina e non lo faccio e quindi faccio questa operazione non per forza come un serbo o come qualcuno che sente un'imposizione dall'esterno ma volentieri come un figlio libero che si abbandona nelle mani del padre quando si parla di rigettare la propria volontà umana non è cancellare la facoltà spirituale della volontà sia chiaro questo qui ma ogni esercizio di essa esercizio di essa che sia contrario anche minimamente caldi in volere per questo io so che una piccolissima cosa non è gradita a Dio non la faccio ecco ma no questo determina un altro modo di vivere e si sperimenta la pienezza della libertà faccio tanti esempi molte volte a me come sacerdote è successo in passato e succede nel presente si fanno domande molto specifiche molto concrete che cosa devo fare questo lo posso fare questo lo posso usare posso mettermi questo vestito cioè così allora tutte queste domande sono di per se stesse legittime ma non bisogna farle a persona esterna a noi a cui si dà come dire una sorta di credito a scatola chiusa e ci si adegua a quello che dice come dire perisseguamente senza interiorizzare i valori che ci stanno alla base i valori che ci stanno alla base che sono operazioni che si fanno davanti a Dio sia nell'interno che nell'esterno facendo attenzione a curare maggiormente peraltro quelli dell'interno perché come spiega Gesù all'inizio del secondo paragrafetto se la creatura mi adora e la sua volontà non sta in accordo con me è parola vana ma non adorazione qui ho immediatamente pensato quando leggevo questa cosa a quella frase che Gesù dice alla Samaritana in quel discorso importantissimo del Vangelo di San Giovanni dove c'è anche l'elogio del fare la divina volontà il mio cibo e fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera quindi la volontà di Dio come alimento dell'anima il famoso discorso dei tre pani con cui l'anima si alimenta la parola di Dio l'eucaristia e la divina volontà ecco e questi sono la parola di Dio l'eucaristia e la divina volontà come dire in ordine crescente perché il cibo eucaristico anche il cibo eucaristico non dimentichiamo mai è un cibo funzionale certamente ha un godimento in sé chi fa una buona comunione può godere della presenza di Dio già qui ma è una presenza temporale e limitata ma se uno fa la comunione e non fa la volontà di Dio ma che l'ha fatta fa la comunione quando l'eucaristia stessa è un atto della divina volontà e il motivo per cui Gesù l'ha istituita è che la grazia presente in noi con ogni comunione si accresca cresca 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 sempre di più non diventi un'abitudine una routine che non produce frutti nella nostra anima e che diventa una cosa non ci diciamo assolutamente inutile per rispetto all'eucaristia ma veramente di poco valore si è fatta in maniera superficiale no? Gesù la samaritana dice quella gli va a chiedere la domanda da bambino nella fede no? dice senti un po' noi adoriamo loro erano samaritani noi adoriamo il signore sul monte Carizim mentre i giudei dicono che bisogna adorarlo in Gerusalemme ma dove dobbiamo adorarlo? e Gesù risponde guarda figlia mia è giunto il momento che non ce ne importa niente del monte Carizim di Gerusalemme attenzione ma i veri adoratori adoreranno il padre questa è una frase misterica in spirito e verità perché il padre ha cercato tali adoratori cosa significa in spirito e verità? quello che Gesù ha detto chi è che adora veramente il signore nel proprio cuore quindi in spirito e nella verità? qual è il più grande atto di adorazione da dire? tu sei Dio e io sono una creatura quindi quello che tu fai è grande quello che faccio io è nulla quello che vuoi tu è giusto quello che voglio io conta nulla questo significa adorare Dio certo che poi c'è anche il gesto esterno dell'adorazione ma generalmente i gesti esterni sono un'espressione dei gesti interni non possiamo noi vivere una schizofrenia o dicotomia interiore d'accordo? se una persona vive in questo atteggiamento di intima riverenza dinanzi al Signore che è la cosa più importante intima riverenza io sto sotto i suoi occhi sto davanti a Lui e cerco e nella Divina Volontà questo diventa sempre più intenso sempre più frequente sempre più vero di prenderne coscienza che sto davanti a Lui e cerco di fare il possibile ma ti pare che se entro in chiesa e so che c'è la presenza reale di Gesù non faccio la genuflessione o durante la consagrazione della messa quando Stanza Cerdote sta chiamando quando il verbo sta scendendo attraverso le sue mani dal cielo e si fa presente veramente in mezzo a noi o sto in piedi o sto seduto ma cioè dover dire a una persona in ginocchia in quella circostanza già ti fa capire che certamente a livello interiore nell'adorazione in spirito e verità quella persona non c'entrata se no lo farebbe da solo un gesto del genere e gli verrebbe spontaneo come la cosa più immediata più semplice una cosa che sto comprendendo con questi bellissimi scritti è che la cosiddetta crisi che oggi si assiste certamente operante in vari settori di chiesa per certi aspetti è anche proprio come dire crisi di interiorità crisi di coscienza cioè questo nostro tempo così pieno anche di possibilità di nuovi sbocchi insomma per certi aspetti fuoriero insomma di molte belle cose ha però questo limite ci proietta tutti fuori di noi ci estromette dalla nostra esistenza e se noi non stiamo ben saldi dentro noi stessi non impariamo questo dialogo tu per tu pensiamo la Madonna in continuazione stava andando girando per tutto l'universo a porre i suoi ti amo ce l'ha detto qui ha messo l'atto prima in tutte le cose si è preoccupata di non soltanto di fare tutto per Dio ma di dare a Dio da parte di tutti quello che tutti dovrebbero dare e che nessuno gli dà anche anche per me anche per te tutta l'adorazione che a Dio è dovuto tutto l'amore che a Dio è dovuto tutta la santità che Dio è dovuto le opere buone le preghiere le ha già fatte la Madonna anche per te e per me ha già fatto tutto quindi ma è chiaro che per vivere in questo modo ma come cioè capito per avere questa preoccupazione santa chiamiamola così com'era all'interno della della Madonna e come dovrebbe essere il nostro interno lei metteva il suo atto primo su tutte le cose cioè le dite il diritto di regina di tutti e di tutti e superò in santità in amore in grazia tutti i santi che sono stati e saranno tutti gli angeli uniti messi insieme e qui poi Gesù specifica attenzione questa non ha una filastrocchetta capito la regina di tutti i santi è la più santa dei tutti modo di dire no no questo è un fatto dice Gesù quando noi parliamo sono fatti non chiacchiere non parole Dio non chiacchiera non parla a bambera come noi e lo ha fatto per questo perché lei è entrata in tutte le creature facendo per loro tutto quello che loro non hanno fatto non faranno o non fanno per la gloria di Dio Luisa Piccarreta che conosce la vita c'è solo rinchiusa dentro una stanza vita natural durante quasi sempre se soventissimo in stato di impietrificamento cioè o comunque dentro 4 metri quadri insomma no e che cosa sta a fare dentro quei 4 metri quadri questo e molto sono da compatire insomma quelle anime poco sapienti ecco che e dinanzi a queste cose sembra che sarebbe questa roba qui ti metti a fare tutti quanti questi cosetti queste operazioni no no qui bisogna bisogna lavorare bisogna fare diceva il mio vecchio mesco questa è la tentazione di coloro che sono non poetici ma sono poietici dal verbo greco poieo che significa fare no l'idolatria del fare oggi sembra che e infatti abbiamo visto tutto quello che produce il fare disordinato e frenetico anche in certe parrocchie anche in certe situazioni no e basta sentire i discorsi che anche recentemente hanno fatto i sacerdoti della diocese di Roma al loro vescovo che è il papa lamentandosi ma qui stiamo correndo come frottole dalla mattina alla sera come trottole dalla mattina alla sera ma è possibile vivere in questo modo il papa ha risposto no che non è possibile non è possibile non si deve perché la prima cosa che anche noi dobbiamo fare è la preghiera l'interiorità il riempirsi di Dio se no tuoi fratelli non porti Dio tu porti un sacco di cose che non hanno niente a che fare con il divino e il mondo di oggi ce la fa più con le cose da fare il mondo di oggi non c'ha più niente dentro il cuore non c'è niente se non una montagna di idoli che portano solo distruzione alienazione follia e morte la divina volontà non è un caso a mio avviso che si sia manifestata si sia fatta conoscere proprio in un tempo in cui da un punto di vista proprio concreto si siamo tornati proprio al polo che più a posto non si può perché se fosse stata fatta questa rivelazione nel quinto secolo quando San Benedetto stava cominciando a fondare il monachissimo con tutta quanta e quello era un ambiente come dire umanamente parlando ideale no? perché c'era comunque un clima c'era una società feudale finita le invasioni barbariche insomma abbastanza tranquilla insomma quindi un tipo di vita molto a misura d'uomo molto posata molto tranquilla impregnata dello spirito di preghiera quale habitat migliore per interiorizzare tante cose no? queste cose e invece la sapienza divina come sempre supera quell'umana e ha riservato queste cose proprio per il tempo in cui abbiamo come dire la chance di usare come dire la saturazione che viene da questo mondo dire me non ce la faccio più a campacolo basta sono stanco di vivere in questo modo desidero vivere diversamente e quando questa cosa parte veramente perché deve partire da dentro ci deve essere una scelta forte un'opzione fondamentale vera è importantissima allora tutto questo diventa molto vicino a noi diventa reale diventa possibile e diventa realmente partecipazione perfetta anche se ovviamente limitata a quello che Gesù e Maria hanno vissuto sulla terra di vivere in Bene Divina Maria, oggi ti abbiamo conosciuta come colei che fece la volontà di Dio come la fa Dio, immagine vera del vivere nel Divin Volere, in atto di ricevere continuamente da Dio ciò che ti convenia fare per vivere in esso. Ecco abbiamo anche meditato sul fatto che purtroppo a queste altezze noi non ci possiamo arrivare a Santa Vergine Maria, però possiamo avvicinarci, possiamo andare contando sugli aiuti copiosi e numerosi che il Signore non nega a chi desidera fare questa vita divina sulla terra. Per la quale tante grazie sono necessarie, ma soprattutto tanta buona volontà da parte nostra, dato che ti abbiamo sentito dire, abbiamo sentito Gesù dire che tu sei la maestra, Somma, ecco, di questo regno e ti chiediamo umilmente di aiutarci ad entrare in esso perfettamente. Ecco, te lo chiediamo con tutto il cuore e ti chiediamo la grazia di aiutarci ad entrare e vivere in esso. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti di ogni mare, ti benedico per consolarti, ti benedico per fatti santo, ti benedico comunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria